Ciao belli ed eccoci qui per lo speciale 1000 iscritti allora siccome le interviste mi hanno dato una grande mano per raggiungere questo obiettivo quello dei 1000 iscritti allora ho pensato bene di fare uno speciale con una intervista abbastanza speciale tutto è iniziato con un cappello esatto proprio con un cappello ma andiamo con ordine chi sarà l'intervistato di oggi? beh chi sarà? guardatevi un po' intorno già sarò proprio io cioè o meglio sarà Luca un ragazzo di 27 anni che ha da poco da diversi mesi aperto un canale youtube e ha da poco raggiunto questi benedetti 1000 iscritti quindi andremo ad intervistarlo allora detto tra noi questo video sarà per me una prova di video editing paurosa perché proverò ad alternare le mie immagini con le mie immagini ed altre mie immagini insomma sarà un disastro molto probabile però io ci provo come sempre bene Luca ci senti dacci un colpo facci capire se ci sei se ci stai sentendo ciao buona e ciao a tutti io sto bene scusami se ti come dire aspetto in questa situazione ma insomma sono nel bel mezzo di un cambiamento radicale comunque volevi un colpo eccolo facciamo due perfetto allora innanzitutto ti chiedo che cosa ne pensi di queste due piantine secondo me sono davvero davvero carine volevo sapere la tua beh ma che dire cosa ne penso che sono bellissime ne ho una uguale anch'io tanta roba grande buono perfetto e dopo aver rotto il ghiaccio che ne decidi iniziare iniziamo allora Luca volevo chiederti subito perché hai aperto un canale su youtube perché ho aperto il canale bella domanda perché mi ero finalmente laureato perché era iniziato il primo lockdown avevo tanto tempo mi ero laureato e quindi ho deciso di aprire il canale di mettermi in gioco al 100% perché io ho studiato comunicazione comunque trovate tutto qui ok ho capito ho capito beh sicuramente è stata una grande idea è un momento in cui avevi del tempo quindi va bene ti capisco però volevo anche chiederti diciamo in questo tuo percorso su youtube qual è stato il momento più difficile quando proprio hai detto no raga mollo tutto lascio tutto e basta il momento più difficile il momento più difficile il momento più difficile credo proprio quest'estate luglio agosto e primi di settembre dove io continuavo a pubblicare video con costanza ok però non arrivava nessun tipo di risultato cioè non solo visualizzazioni ma anche per dire commenti ma anche tempo di durata di visualizzazione e avevo magari quei 500-600 iscritti facevo quelle 50 visualizzazioni mi dicevo ma cosa sta succedendo e quindi lì ero molto 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 sconfortato per fortuna ho trovato la forza la voglia e la mentalità per proseguire e adesso qualche bel risultato sta arrivando ok allora la prossima domanda se mi presti il cappello grazie non so se questa cosa riesco a renderla bene cioè vorrei fare in modo che mi abbia passato il cappello va beh insomma vorrei fartela con il cappello quali sono i tuoi obiettivi per il 2021 i miei obiettivi per il 2021 in realtà è uno anzi no sono due voglio continuare a pubblicare video con costanza ok perché è fondamentale su youtube e seconda cosa che mi piacerebbe davvero tanto è continuare a far crescere e far amalgamare si dice così la mia community quindi creare una community di persone che va d'accordo vanno d'accordo fra di loro allora Luca voglio essere sincero con te mi sembra di conoscerti da una vita mi trovo benissimo ad intervistarti e non so mi sembra proprio di essere sulla stessa lunghezza donna quindi è fantastico intervistarti grazie grazie davvero per questa opportunità ma sai che sembra anche a me cioè io mi reputo di molto migliore rispetto a te cioè più bello più simpatico più intelligente però anche tu non sei niente male Luca complimenti bravo continuo così magari un giorno arriverà il mio livello ma più in generale ok questi sono i tuoi obiettivi per il 2021 e grazie ma in generale il tuo obiettivo su youtube qual è? vuoi diventare milionario? dimmi la verità non mentirmi tanto riusciresti a mentire a te stesso ma non a me o viceversa allora i miei obiettivi invece in generale su youtube sono due primo obiettivo mi piacerebbe ma sta cosa sta funzionando? ok si funziona scusate ma dovevo controllare primo obiettivo mi piacerebbe riuscire perché no anche a farne di youtube un secondo lavoro quindi col passare del tempo e dei mesi avere perché no anche un introito non dico consistente ma insomma un buon introito anche da parte di youtube e invece altro obiettivo molto più come dire importante da un certo punto di vista mi piacerebbe diventare un buon esempio all'interno della community all'interno di youtube nel senso che io faccio l'educatore quindi mi piacerebbe fra un video stupido una piantina non lo so è un video in cui aspiro di tutto mi piacerebbe rimanere sempre come un buon esempio quindi essere qualcuno che se visto ti dà dei messaggi positivi quindi vorrei essere un messaggio positivo all'interno della community di youtube italia bene 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 mi fa molto davvero molto piacere sentire queste queste tue parole questa tua risposta già che ci siamo già che siamo in un clima come dire sereno qual è stato il tuo momento più felice sul canale? allora il momento più felice secondo me è quando è stato il primo commento che non so se riesco a recuperartelo però in cui qualcuno mi ringraziava perché gli avevo reso la giornata migliore e allora lì mi sono proprio sentito un po' contento ho detto ma dai qualcosa si sta muovendo sono contento insomma vuol dire che sta funzionando ecco vuol dire che inizio a diventare positivo Luca una domanda anzi buono meglio con i soldi che guadagni adesso su youtube quante di queste piantine riusciresti a comprare? calcola che ogni piantina costa cipo 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 costa tipo un euro beh ma come puoi vedere ne posso comprare un sacco una, due e tre beh no magari qualcuna in più però tieni conto che il 9 mese ho guadagnato 70 euro da affiliazioni amazon quindi youtube ancora non mi paga nulla e in realtà li ho guadagnati a novembre e dicembre quindi con back friday, natale eccetera eccetera quindi la gente ha acquistato molto a gennaio per esempio non ho ancora guadagnato nulla secondo me se tutto va bene posso guadagnare non so un 10 euro al mese ecco quindi una decina di piantine al mese per adesso è così mi parli per favore dopo guarda dopo ti lascio stare dei tuoi segni distintivi cioè hai dei segni distintivi sul tuo canale la tua persona insomma raccontaci un po' beh io ho due segni distintivi ciao belli ciao belli con il quale inizio e concludo tutti i miei video e poi beh il cappello il cappello che in tutti i miei primi video è sempre stato sulla mia testa e adesso di solito è sempre vicino a me è diventato oggetto di scena bene Luca allora premesso che sei il mio youtuber preferito cioè sei simpatico sei interessante sei capace di intrattenere sei guarda davvero sei il mio preferito davvero non lo dico perché sono di parte ma perché lo penso ok davvero volevo salutarti ringraziarti mi raccomando non mollare mai ok continua così con questo spirito se hai un messaggio da dare ai nostri amici fallo adesso allora il messaggio finale voglio farlo serio nel senso che vi chiedo di essere il meglio che potete essere quindi se siete bravi in qualcosa fatelo al vostro meglio bene ok Luca io ho cercato di guardare in camera tu magari hai guardato me loro hanno guardato te ogni tanto hai guardato in camera insomma l'inquadratura in questo video sarà tutto uno spettacolo tutto qualcosa di nuovo quindi grazie mille come dice il nostro amico Luca ciao belli ok vi aspetto sempre qui sul suo canale sul mio canale vi aspettiamo vi aspettiamo su questo canale speciale mille iscritti grazie di cuore a tutti ciao belli condividete commentate iscrivetevi ciao belli